Tutto ok? È strano se dico di sì. È vero? Dovrei sentirmi sconvolta, spaventata, una cosa simile. Invece mi sento un po' elettrizzata. È l'adrenalina. Crollerai fra poco. Sì, credo anch'io. Mi sono difesa stasera. Una bella sensazione. Vorrei che non dovessi mai lottare. Comunque... Devo dirti una cosa. E non so come la potrei prendere. Che cosa? Ho detto a Daemon che lo aiuterò ad entrare in quella cripta. A riprendersi Katrin. Ma ho mentito. Gli ho lasciato credere di potersi fidare di me. Allora perché eri preoccupato di dirmelo? Perché lui sa essere molto persuasivo e vi siete... avvicinati ultimamente. Non significa che io mi fidi di lui. Ci vorrà molto più di... un viaggetto e un salvataggio perché io dimentichi chi è Daemon e tutto quello che ha fatto. Non voglio essere suo nemico, Elena. Ma non posso lasciarglielo fare. Allora non farlo. Io ti aiuterò a qualunque costo. Ok? Ok. Vieni. Ok. 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 Grazie a tutti.